Rieccoci qui dal Salone del Risparmio, sono in compagnia di Giancarlo Sandrin di Legal & General Investment Management. Grazie Giancarlo per essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, questo è un anno importante per vedere gli esiti, i primi esiti di MIFI 2. Stiamo arrivando a tutto ciò che riguarda la rendicontazione, quindi fare letteralmente i conti con questa normativa. Dal vostro punto di vista, osservatorio privilegiato, cosa state constatando rispetto al ruolo della consulenza? Il ruolo della consulenza diventerà sempre una cosa più importante nel rapporto con il cliente. Infatti, quello che noi stiamo vedendo è la necessità di andare a aumentare il servizio offerto in termini generali. In termini generali intendo sia un asset allocation un po' più dedicata all'esigenza del cliente e in più tutta una serie di servizi eventualmente accessori che dovranno essere dati al cliente stesso per poter far comprendere il valore della fee che viene pagata dal cliente. In questo ambito, in particolare, nell'asset allocation riteniamo che ci sarà sempre più un'adozione di prodotti sia attivi sia passivi per poter creare un mix ideale in base alle esigenze del singolo cliente. Altro tema guida imprescindibile di quest'anno del Salone è quello degli investimenti ISG, della sostenibilità. Come si posiziona Legal & General Investment Management? Ma noi riteniamo che un punto fondamentale della sostenibilità, al di là della scelta dei titoli secondo criteri ISG che noi stessi facciamo all'interno di molti dei nostri portafogli, tra cui gli ultimi core ETF che abbiamo lanciato, un altro aspetto importante è quello che in Inghilterra viene definita come Active Ownership, cioè il fatto di essere effettivamente presenti in assemblea nel momento in cui ci sono delle decisioni fondamentali in termini ad esempio di climate change. L'Inghilterra in general risulta essere uno degli asset manager a livello mondiale che più si batte all'interno dell'assemblea per fare in modo che tutte le tematiche ISG vengano poi prese seriamente in considerazione dai board delle singole società. Quindi in questo caso siamo veramente attivi anche nel caso delle votazioni in assemblea. Questo è un punto cruciale e importante perché è proprio attivismo in tutti i sensi rispetto a queste tematiche. Io ringrazio nuovamente Giancarlo Sandrin per essere stato qui con noi e non mi resta che lasciare la linea alla regia. Grazie.